Una gara opaca, Danilo Polizzi e Sena, però alla fine la tua zampata è stata decisiva per questa vittoria. Sì, opaca, opaca perché magari loro facevano un po' più di possesso palla, però al di là del possesso palla nell'area loro, nella loro metà campo, non è che solo gli ultimi dieci minuti hanno creato qualcosa di importante. Si sono fatti vedere nella nostra area di rigore, anche perché noi eravamo rimasti in dieci, quindi era normale che ci abbassavamo. Siamo stati fortunati sull'azione di Lombardi, che ha tirato fuori. Raccontaci un attimo l'azione del tuo gol, Cappellini che disturba il portiere avversario, si crea qualche carambola in area e poi la tua zampata. Lo voglio rivedere perché sinceramente non me lo ricordo come mi è arrivata la palla lì davanti. Ricordo solo che ho fatto un 1-2 con Loris, poi c'è stato il tiro e Cappellini è andato sul portiere e poi mi sono ritirato la palla lì. Prossima gara con il Pineto per rimanere in scia del Matelica sperando in un passo falso. Sì, ma noi ormai pensiamo a noi, tanto più guardiamo il Matelica più vince, quindi basta guardarlo e pensiamo a vincere noi e poi vediamo alla fine. Grazie a tutti.